Noto per i suoi ruoli nella serie di Emanuele Nera di Bitto Albertini e quelli nei primi film di Carlo Verdone, come Bianco, Rosso e Verdone e Borotalco, vinse il David di Donatello per il miglior attore non protagonista nel 1982, grazie alla sua interpretazione in Borotalco, inizialmente attivo nel campo cinematografico internazionale, prendendo parte tra l'altro al padrino di Francis Ford Coppola nel ruolo di Fabrizio, si dedicò tra gli anni 70 e gli anni 80 a vari film del cinema italiano di genere, tra cui Western All'Italiana, Sexpluation, Poliziotteschi e alcuni Trille, in seguito si rivolse prevalentemente a produzioni televisive come serial e film per la televisione. Padre di Rossella Infanti, 1977, attrice come lui, si sposò con Emanuela Rolando con cui rimase fino alla morte. Le 11 ottobre 2010 venne colpito da un improvviso attacco cardiaco nella sua casa di Zagarolo, in provincia di Roma, ricoverato presso l'ospedale di Tivoli. Muori il giorno dopo, all'età di 71 anni, per sopraggiunte complicazioni.